Sì, andiamo! Dio, guarda il video cazzo! È il video suo io! Stai riprendendo un video? Stai facendo un video Allora stiamo sempre in presenza di uno dei più grandi gruppi rock nella zona marchigiana Allora, vi presento il chitarrista ovvero Scarpetti, il suo Scarpetto grande chitarrista metallaro quella volta era blindato ho detto anche Metal Cowboy grande chitarrista con un grande personale se vuoi giocare con il migliore possibile ok, ok, ok ok, ok, ok oh, The Poison questo è un mito e allora qui siamo di fronte al mito ragazzi qui siamo di fronte alla leggenda, siamo di fronte al mito del rock il più grande esperto di rock che abbiamo qui in Italia ecco, adesso lo vedete che un po' si maschera, si sta mascherando ti faccio vedere poi una mia intervista una mia intervista allora cosa ne pensa lei di questo del rock del rock del 2000 e qua del 2008 quando tutto è schifo allora ve lo avete prende in culo il rock sanguigno del 80 porca madonna di che mi ha un culpo e smacca il culo in tutta messima non lo ha io non lo ha io non lo ha allora siamo di fronte a me i i i i